Ah, che bello esserti venuta a trovare Fluttershy Siamo contenti di stare qui con te Ma... Pinky, ma sei comoda? Sì, comodissima! Sta un po' strana sta ragazza comunque Vabbè, scendo Eh, mi sa che è meglio Ma niente, questa è proprio matta, eh Ma Pinky, ma non puoi stare comoda così? Ti metti seduta, per favore? Ok Ecco, papà! No, Pinky, levati da qui, non è possibile Vattene, brovi, mettiti composta Ah, finalmente! Pinky, mo' calma Va bene Insomma, ragazzi, vi dicevo Il mio computer sa veramente tutte le novità È veramente un computer fantastico Voi sapete che parla? Veramente? Sì, sì, parla, dice le cose E ci dice tutte le ultime novità Adesso io gli scrivo Ultime novità Super bellissime Vediamo cosa ci dice Io so tutte le novità In edicola è uscito lo schifido il nuovo coi glitter Wow È uscito lo schifido il nuovo coi glitter Eh, tocca andarlo a comprare Sì Chi ci va? Pinky Io dico che ci va Pinky Vero? Sì Così esce un pochino E noi siamo un po' tranquilli Perché è impossibile Se non stare con questa Che sta sempre agitata Senti Pinky Quanto costerà lo schifido? Allora io L'ho visto in edicola Perché volevo vedere Che cosa c'era di nuovo E quanto costava? Ho visto che costava 1 euro e 99 Ma no Non può costare 1 euro e 99 Guarda che costa 3,50 Ah, me lo ero dimenticata Cosa? Non costa 2,70 Vabbè ma per questa volta Lo pagheremo 3,50 Però Non va bene questa cosa Deve costare 2,70 Vabbè Pinky Dai ecco i soldini Vai Ci vediamo dopo Ci vediamo dopo Ciao ciao Ah bene Adesso che siamo sole Ci rilassiamo un po' E facciamo un pochino di cose Con il mio computer parlante Ok ragazzi? Ok Oroscopo Avrete molta fortuna Nei prossimi giorni Oh Meno male Oh Guarda questo sito Che bello Sono iniziati i saldi Tutte le scarpe A 2,70 Yeah Da che andarci Fichissimo Sono tornata Già Già Eccolo qui E quindi lo apriamo adesso? Sì Vai Yeah Ma che cos'è? È una pasta Molto 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 Schifittosa E anche Molto Strizzosa Bene Ecco il nostro Schifidol L'aperto Qui lo possiamo Tirare Come vedete Si può Strizzare Si può Arrotolare È una Nuova Vediamo un pochettino Facciamo vedere Anche la scatola Eccolo qui Schifidol Gummy Slime Superstar Mega Glitter Abbiamo scelto il colore oro Vi piace Minis? Sì Perché ha odore di cioccolata E dice dovrebbe avere l'odore di cioccolata Ma in realtà ha odore di Boh, di tutt'altro Poi ci sta un Ah, poi che altro c'è? Un foglietto con tutte quante La gamma degli Schifidol Slime Allora Ovviamente scriveteci nei commenti Qual è il vostro colore preferito o quello che avete Oppure quello che vorrete Esatto E soprattutto diteci se veramente hanno l'odore Che c'è scritto sulla scatola Perché qui appunto c'è scritto che Sa di Gold Chocolate Ma sinceramente No, non sa di cioccolata Sa di shampoo Comunque vediamo E soprattutto scriveteci se Dopo Diventa puzzoloso Schifosissimo Come il vecchio Schifidol Quello dell'anno scorso Che aveva Quello che stava nel bidoncino Bene Continuiamo il nostro video con le Minis Bene Io ho tutto questo bello Schifidol addosso e Attenta Picchi Perché sotto dite C'è Winona Oh no C'è questo Schifidol Su Winona Adesso Come facciamo E un attimo Lo cerco sul computer Vediamo cosa mi dice Per tirarla fuori Bisogna tirare Possibile Che io debba dirvi Tutto Eh In effetti ha ragione Dai ragazze Tiriamola fuori Oissa Ma quanto è lungo Questa schifezza Schifidol È infinito Iissa Winona però Poi tu Potevi fare qualcos'altro Invece di passare sotto a Pinky Lo sai che Pinky è pazzerella Evviva L'abbiamo liberata No Gummi Pure tu No però Gammy No 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 Vieni qua Vieni qua Basta Non si fa Non si fa Vieni qua Ancora Ma basta Dai vieni qua pure tu Via Io non lo so Questi cuccioli Tra Pinky I cuccioli È il delirio qui Ragazzi Movi ci lascio Basta Via Il computer Ma proprio questa idea Dovevi avere di comprare Questo Schifidol Avete voluto la bicicletta E ora pedalate Ecco Ti pareva Ci ha proprio C'ha proprio preso in giro Ragazzi Ancora state nel pantano Questo Schifidol Non è andato così male È bellissimo Infatti mi è piaciuto parecchio Sapete Guarda me No no Proprio carino Volevo dire una cosa importante Se vi è piaciuto il nostro video Iscrivetevi al nostro canale E salutiamo i fantastici 4YT Ammira e Davide Angelo Manta Sì è vero Salutiamoli anche noi Ciao Ci vediamo presto Nel nostro prossimo video Un bacio a tutti quanti Ciao Sì è vero